LUNA ROSSA LUNA ROSSA LUNA ROSSA LUNA ROSSA sembra che non avrebbero un boom sul basso questo sembra da un'intervista dato da Max Sirena LUNA ROSSA e anche c'è un ragazzo che ha detto che il boom è già lì ma non lo vedete e abbiamo visto anche un'opera oval con le capi nella parte centrale del cockpit come sai tutti questi AC-75 sono diventati in due quindi la squadra che si resta e nel medio c'è un spazio per spazio che tutti i bambini avrebbero avrebbero con il duck sweeper vediamo americani vediamo l'emirate con un boom normal con una mace che in una linea in una linea e in un po' in una linea e poi si resta con le capi con le capi con le capi luna rosa ha un sistema che è un sistema completo con le capi con le capi con le capi quindi questo è probabilmente un sistema che permette usare la capi che si immagini il sistema di avere un tipo di un sistema che permette di movere attraverso le capi o le capi delle capi che sarà una sorta un boom quindi possiamo pensare che potrebbero adjustare non solo il camber ma anche la posizione dove il camber è e probabilmente anche la profilità del profilo esatto quindi abbiamo visto che le capi sono ovali e la parte lunga è in direzione longitudale quindi questo fa pensare che permette di movimento e probabilmente è quello che si si con anche che abbia bisogno bisogno di accelerazione in parte della parte della della parte perché la parte parte probabilmente sarà sotto o anche counter esatto quindi potrebbe essere con un legato con un legato sistema normale con bottoni che ovviamente con il sistema poter pulire non solo pulire ma ajustare la cambra ma la posizione del cambra sarà dictata dalla construzione dei bottoni can ovviamente potrebbero diventare una spesa quindi potrebbero cambiare sicuramente cambiare ma non durante il rischio quindi per sicuramente Prada avrà una forma più ajustabile nella parte parte ovviamente questo è un compromiso per avere un sistema pesante esatto esatto ma ancora sembra avere un sistema innovativo che finirà abbastanza davanti quindi non non sembra che abbia qualcosa simile quindi credito questa parte in questa parte probabilmente sarà la migliore però potrebbero essere tardi perché è abbastanza complica quindi non è che puoi arrivare alla capa con un sistema che funziona proprio esatto e probabilmente se mettete il peso della tua pallina in diversi temi questo sistema è una parte del peso quindi devi cambiare molti cose per accomodare questo numero esatto vediamo cosa succede se i controlli sono per ogni parte della puntata o tutto il si potrebbe lavorare speriamo se il boom può essere aperto probabilmente non potrebbero avere un sistema per ogni punto che stanno in fricol e lavorano con il boom in mezzo. Quindi tutto, oltre oltre, solo un pocchi centimetri. Questo è perché il coppite dei bambini è molto simile da un bambino alla l'altra. Quindi tutto ciò è pensato per il boom di essere un deck-sweepo in questa parte. Questo è l'unica parte che è molto simile da un bambino alla l'altra. Ciao!